Per ritrovati amici del centro medio italiano, piogge temporali sull'Italia ancora nei prossimi giorni localmente anche di forte intensità. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni meteo per mercoledì 23 maggio, nuvolosità diffusa al mattino su gran parte della penisola con piogge soprattutto sul medio adriatico e al sud. Più asciutto altrove, al pomeriggio piogge temporali sparsi più intensi su Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia e Campania. Più asciutto su Liguria, Sardegna e Coste Toscane. In serata e nottata ancora residui e precipitazioni al nord-est e lungo l'adriatico, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in lieve calo, massimi in aumento al centro nord e stazionari o in calo al sud. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito o sulla nostra app meteo. Un saluto da parte del Centrometro Italiano. Grazie per la visione!